Ciao a tutti amici di Qt&Chic! Oggi, anche se sono veramente un pelo giù di corda, ho deciso di fare un unboxing perché non arrivava niente queste settimane delle subscription box a cui sono iscritta e allora ne è arrivata una venerdì che mentre ero in fiera al mondo creativo dove ho comprato veramente un sacchissimo di roba a Bologna però bellissima, tra cui i regali di Natale per persone impossibili che hanno già tutto e non so mai cosa prenderli e comunque adesso è arrivato questo unboxing venerdì ma lo sto facendo oggi che è lunedì perché aspettavo che arrivasse se mi arriva qualcos'altro oggi, ho detto visto che non è arrivato niente faccio questo unboxing perché ero sicura che mi mancavano i miei unboxing moltissimo per fare questo unboxing sto bevendo un fantastico tè Air Grey che ho comprato prima al supermercato questo qui della Lipton per l'Annespresso io uso il tè in foglie quindi non uso queste schifezze, le ho filizzate ma ho voluto provare perché la scatola era carina e quindi, il Lipton poi tra l'altro non è di qualità proprio migliorissime del mondo però lo proverò in diretta con voi tra l'altro ne fa anche poco però vabbè, lo provo con voi eh, pronti via è una vera schifezza, benissimo forse con 6 kg di zucchero potete provare ma non lo so non lo provate, risparmiate, prendete il tè in foglie prendete su internet, vedete voi comunque, oggi unboxing da cute and chic l'unboxing di Fandom of the Mons non è vero, ho sbagliato, non è Fandom of the Mons scuro l'ho fatto l'altra volta mi è arrivato The Fan Empire che dal logo di Fan Empire si capisce che di solito sono cose che riguardano Harry Potter la saga di Harry Potter o The Fantastic Beasts e Where to Find Them e quindi oggi andiamo ad aprire questa qui che è la box, più che una box è una boost di novembre che è la penultima che mi arriva perché dopo mi sono disiscritta da questo da questa da questa subscription box perché volevo provare altre cose e allora c'è una che possono arrivarmi 40 pacchi al mese e allora ho deciso che l'ho provata per 3 mesi e poi comunque vedo che se mi manca la magari la riprendo per essere come se la Fandom of the Mons l'ultimo video che ho caricato devo dire che sembravano molto belle le cose all'inizio ma adesso si sono veramente un po' diventate bruttine allora premetto che la precedente box di The Fan Empire che è questo non mi era piaciuta tantissimo però era sempre sul reporter ed è difficile ma purtroppo non mi è piaciuta tantissimo e adesso vediamo cosa ci aspetta questo viola mese nella busta uh uh tante cose cominciamo con la prima ok c'era stato un problema con la fotocamera e niente riprendo insomma ho tirato fuori la prima cosa che cos'è ma non c'è un biglietto ah si 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 ecco allora Fandom of Symbol The Fan Empire questo è il simbolo dei Doni della Morte di Harry Potter e e vediamo che cosa ci ci molto bella questa cartolina devo dire e di dietro c'è solo la descrizione di tutte le cose che ci sono allora questa cosa qui che ho tirato fuori eh per ehm oh che per prima è una casa meravigliosa è un copricuscino di Harry Potter The Four Nature Element i quattro elementi della natura che è bellissimo che è bellissimo che ho subito un cuscino qui pronto per essere riempito eh là ecco bellissimo guardate cioè è di quella stoffa mmm non lo so comunque sono i quattro elementi della natura sono The Force che è Dark Weather il Precious che è l'anello e Twin Travel che è odotto ovviamente Wizardly che è Harry Potter mi piace va bene questa è la prima cosa e ha un valore di 18 dollari ma chi li spende 18 dollari per un copricuscino boh vabbè ci sono siti ci sono siti poi dove sarà abbiamo un credo che sia un gold no multi-fandom char braccialette e ha un valore di 20 dollari e vediamo chi ci abbiamo in questo braccialetto perché io dato che non capisco wow allora cerchiamo di non fare l'ignorantone e trovare tutti i simboli ah allora abbiamo questo che non mi ricordo questo che vabbè è la di andai imitatrice di hunger games poi cosa abbiamo qua cosa è ah questa è la foglia di frodo del signore degli anelli poi abbiamo chi è allora poi abbiamo una tessidra che non so chi è vabbè il dottor il fuego che non lo so chi è stiamo facendo l'ignorantona questa maschera che non so chi è questo qui cos'è un arco non so san gilgings non so e allora questi sono questo è il drago di veneri stargarian del troll di spade questo non so e la chiave che chiave è questa ah è 221b quindi è la chiave della casa di Sherlock Holmes e poi abbiamo questo simbolo qua che non so che cos'è comunque è abbastanza è un po' pieno per i miei gusti però ce ne sono tante cose ok poi vediamo c'è un'altra bustina con all'interno una bella bustina con la luna delle stelle che all'interno allora allora mamma mia non capisci nulla ah allora abbiamo che secondo me ci hanno un po' gonfiato i pezzi però vabbè allora questo dovrebbe essere un portachiavi dei che anche questo è un portachiavi con il simbolo dei toni della morte al centro poi c'è la granda amicatrice di Hunger Games e c'è il fuoco che devo capire da che viene e poi qualcosa tipo non so comunque sono vari simboli delle varie storie adesso e allora questa cosa qua che mescoliamo tutte le cose insieme e piace evidentemente sì e poi infine abbiamo una collanina che secondo voi questo qui costa 20 dollari vabbè secondo loro sì e poi anche questa qui di risolta questa 22 dollari non so sarà d'oro non c'è neanche gold plated ed è anche ecco no tutto a posto e questa è una collanina con il simolo più brutto di Harry Potter secondo me il fulmine della cicatrice di Harry cosa dice me la metto ma sapete perché non mi piace questo perché più che il fulmine di Harry Potter la cicatrice di Harry Potter mi ricorda Flash mi sembra che una catenina di Flash Golden a me non piace cosa vi devo dire cioè io posso dare 20 dollari per questo coso cioè sembra una roba che compri un mercatino egiziano è proprio schifo cosa vi devo dire mi ha fatto vena di iscrittermi perché insomma abbiamo per esempio questo qui è molto bello sono dei simboli molto belli dentro però è veramente pacchianissimo ma che è che mangiro questa roba dai allora io adesso sicuramente gli leverò la ghandai ammettatrice mi farò una spilla guardate quant'era figa cioè basta mettere una spilla la ghandai ammettatrice è un fatto perché devi fare tutto questo casino vabbè queste sono le mie opinioni comunque questa era la fan empire the fan empire seguitaci su instagram del mese di novembre da chito esci che è tutto oggi sono anche sotto tono quindi forse questo video non lo carico però ciao a tutti grazie